Silvia Cangelosi, Mediotel Radio e sono in compagnia qui alla BTM 2020 della sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi, benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno, buonasera. Alla fine di questo speech, molto interessante, facciamo un riassunto breve, sono toccate varie tematiche come anche quella del mondo del lavoro, della formazione e del futuro. Sì, abbiamo appunto un po' analizzato il tema del lavorare sull'innalzamento generale dell'offerta del nostro sistema turistico italiano dal punto di vista ovviamente infrastrutturale ma anche soprattutto di quello della formazione, quindi della professionalizzazione, quindi della mancanza di percorsi formativi di alto livello nel nostro paese sui quali invece bisogna lavorare. Si è parlato anche di corsi di laurea, si è citata anche la Spagna come esempio, anche col direttore scientifico. Come mai facciamo così fatica a non considerare il turismo un'industria? Questa è una riflessione che andrebbe fatta anche storicamente dal punto di vista storico-politico. Nel nostro paese forse siamo talmente abituati a vivere nella bellezza che non abbiamo mai considerato l'importanza vera di quale meraviglia avessimo, insomma siamo stati un po' pigri e da questo punto di vista credo però che in questi anni di consapevolezza ne stiamo acquisendo. Quindi un po' a suoi fatti dalla bellezza in senso buono, abituati bene? Assolutamente, esatto, assolutamente. Grazie, la ringrazio, le auguro un buon lavoro. Grazie anche a voi, a presto, arrivederci. Grazie.